Leggendo la preghiera del fariseo mi sono sdegnato perché mi sembra la preghiera abbastanza stupida, una preghiera che dice grazie perché non sono come gli altri. Esiste qualcosa di più bello che essere come tutti gli altri, non pecoroni ma grezze, che segue lo stesso pastore. Così si percorre la vita senza complessi di superiorità, nessuno è più di nessuno, ma anche di inferiorità, nessuno è inferiore a nessuno. Questo è ciò che tante volte ci dice il Signore, un mondo di uguali, un mondo di fratelli, un mondo di sorelle. E anche il Vangelo di oggi ci mostra due modi per andare a Dio, nel bene e nel male. Andare a Dio nel modo più duro e andare a Dio come il fariseo, in un piano esigente. Sono coloro che vogliono comprare Dio per i loro meriti, credono di essere giusti e quindi non hanno bisogno che Dio li giustifichi. Per loro Gesù è un lusso. Non c'era bisogno che venisse in questo mondo. Loro, con le loro opere, meritavano il cielo. La cosa peggiore di questi non è che si considerino buoni, ma che disprezzano coloro che non sono come loro. Io non sono come quel pubblicano. Ma poi si può andare a Dio anche in un altro modo, come in mezzi buoni, come il pubblicano della parabola. E non era in termini di domanda, ma la sua preghiera era in termini di indigenza, di necessità. Si stiva povero, piccolo, peccatore e non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo. Se il fariseo stava davanti a Dio con i puni chiusi, chiedendo tutto ciò che gli doveva, questo pubblicano sta davanti a Dio con le mani aperte, pronto a ricevere il perdono di Dio. Quindi cosa ci dice il Vangelo? Che il pubblicano uscì dal tempio giustificato, cioè giusto, santo. Non lo meritava, certo, ma non è una questione di merito, è una questione di grazia. Dio ha fatto tutto e sempre gratuitamente. E invece al fariseo, cosa è successo? Cosa gli è capitato? Che lascia il tempo, il tempio, con tutti i suoi peccati, quelli che aveva, più uno, l'orgoglio. Quindi per il proposito che possiamo fare oggi, per questa giornata, potrebbe essere di trascorrerla scoprendo e guardando di buon occhio le persone accanto a noi. Non sono né più né meno di me, sono i miei fratelli, sono le mie sorelle, sono come me. Buona giornata a tutti.